A scuola con la Guardia di Finanza è un progetto che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Educazione alla legalità economico-finanziaria, frutto del protocollo d'intesa recentemente sottoscritto a livello centrale con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'obiettivo del progetto è quello di diffondere tra gli alunni e gli studenti delle scuole di primo e secondo grado della provincia di Catanzaro il concetto di sicurezza economico e finanziaria, ma soprattutto di affermare il messaggio della convenienza della legalità economico-finanziaria. Su queste basi sarà utile per i ragazzi accrescere anche la consapevolezza del delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza, quale forza di Polizia al servizio della collettività? Il progetto della legalità economico-finanziaria interessa il protocollo d'intesa che è stata di recente sottoscritto fra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Guardia di Finanza ed è coerente con quelle che sono le finalità proprie dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, cioè l'obiettivo di far acquisire ai nostri giovani delle stabili e autentiche abilità e competenze civiche.